Lomonaco attacca ancora Mourinho, la control tecnico della Roma. Pietro Lomonaco torna a parlare di José Mourinho. Non proprio dolci le parole dell'ex dirigente del Catania che ai microfoni di un calcio alla radio, programma radiofonico napoletano, si è voluto esprimere così sul tecnico portoghese, Mourinho. Ho avuto sempre ragione. Lui è un'azienda e io ho detto che ha qualità di conduzione, ma come capacità di esprimere lavoro in campo. Per me è un asino e l'ho sempre detto. Già nel passato i due avevano avuto delle divergenze. Quando l'allenatore portoghese era in forza all'Inter mentre il dirigente l'amministratore delegato del Catania. Lo scontro nel 2008 il botta e risposta tra i due, avvenuto nel 2008, non fu dei più amichevoli. Pietro Lomonaco disse dell'ex allenatore dell'Inter Mourinho è uno da prendere a bastonate tra i denti. La risposta del tecnico portoghese non tardò ad arrivare e diventò, in seguito, Cat, lo Monaco. Io conosco il Monaco del Tibet, Monaco di Monte Carlo, il Bayer Monaco. Il Gran Premio di Monaco. Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me deve pagarmi tanto. Virgola.